Inauguro oggi una nuova rubrica del mio blog Lex Around Me intitolata Lex Around Talk. In questi video risponderò alle domande che mi vengono fatte più spesso dai miei clienti o dai visitatori del blog. Una delle domande che ricevo più spesso è se per usare i marchi all'interno della piattaforma e-commerce sia necessario chiedere l'autorizzazione al produttore. Quindi in sostanza se serva per esporre i marchi dei prodotti online una sorta di accordo comunque di un'autorizzazione preventiva. Nella vendita tradizionale se un negoziante acquista un prodotto per poi rivenderlo nel proprio negozio è implicito che debba esporlo e debba esporlo normalmente nella sua vetrina o comunque in un luogo ben visibile e naturalmente se il prodotto ha un marchio è ovvio che il marchio venga esposto insieme al prodotto anche perché si tratta di uno degli aspetti fondamentali della valorizzazione del prodotto stesso. È in sostanza un'attività connaturata all'attività di vendita. Viene definita come una sorta di licenza implicita, quindi non tutte le volte che il venditore espone il prodotto deve andare a chiedere l'autorizzazione al produttore per esporre anche il marchio. Dal momento che il produttore vende i suoi prodotti al rivenditore lo autorizza naturalmente a esporre anche il marchio del prodotto. Alla stessa stregua se ho un sito di e-commerce quella che è la mia vetrina sarà la mia home page, la sezione prodotti o una sezione offerte speciale in quel momento che decido di fare e a quel punto non avrò bisogno di un'autorizzazione particolare anche all'esposizione del marchio. Quindi, se sono un venditore, seppure virtuale e compro da un fornitore, dovrò mostrare i suoi prodotti per venderli e quindi non c'è differenza se lo faccio in rete o in un altro luogo e quindi in un negozio fisico. Naturalmente questo vale per la vendita di prodotti originali che sono presenti sul sito. Altro è se lo scopo dell'esposizione del marchio è quello di pregiarmi della vendita di prodotti con un determinato marchio e quindi inserisco il marchio a scopo pubblicitario per mostrare la qualità del servizio offerto o comunque la qualità del mio sito. In questo caso sarebbe opportuno e consigliabile accordarsi con il fornitore per l'utilizzo del marchio. I fornitori concedono a volte l'uso anche gratuito del marchio, però lo sottoporre a determinate condizioni. Quindi magari la dimensione del logo, il modo di esporlo, una determinata posizione all'interno del sito. La licenza, naturalmente, che è una licenza d'uso, è più spessa a titolo oneroso, quindi dietro il pagamento di un compenso. Comunque in entrambi i casi, se non si è venditori autorizzati dei marchi che si espongono, prima di pubblicare il marchio sul sito è opportuno sottoscrivere con il fornitore un accordo per l'utilizzo del marchio. Questo tutela il venditore in maniera tale che i prodotti che vende non saranno oggetto di contestazioni e anche l'acquirente, il visitatore del sito, che sa che tutti i prodotti e i marchi quindi presenti sul sito sono autorizzati. In questo caso male non fa mettere magari anche un disclaimer. Spero di aver chiarito questo dubbio. Naturalmente per altri approfondimenti o chiarimenti puoi seguirmi sempre sul mio blog, Lexaroundme, o sui miei social seguendo l'hashtag Lexaroundme, oppure puoi anche iscriverti al mio canale YouTube cliccando anche la campanella per essere aggiornato su tutti i nuovi video. A presto, grazie! Grazie!